con barca vai 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 madonna se perdiamo il game giuro che lo insulto lo insulto tantissimo la polizia in quanto eravata sinistra martin io me lo sa io stavo in wipon stavo facendo le stele di credo ci conosco il nome ma ero in basso al centro allora la killa del barchetto ragazzi il corpo e la tanza gas in alto a destra io non sono andata a destra sono sceso dal basso verso il basso al centro che è sceso dal basso è vero l'ho visto all'inizio ragazzi non sono entrato a destra sono andato in basso aspettate io quando sono entrato in med sono andato a farlo scanne e c'erano i bosa e i magoni insieme e raga ha detto che non ci è mai andato a destra quindi raga dai via barca bravo barca cioè fai proprio schifo sgamato al primo ridicolo vabbè game perso madonna barca perché mi sabota le luci perché dai rimpostare con barca e muore ma che cavolo vero ok comincerà a fare qualche che posizioni dimmi dove è il corpo che te lo becco anche l'altro praticamente sulla botola di cons io ho visto lollo entrare dentro iphone poi io sono entrato dentro com se mi hanno controllato sia xela che parzi e poi sono scattato le luci quindi secondo me danni è recente come kill perché io avevo incontrato due persone sono entrato in iphone e loro era in web non è vero perché ma c'era c'era sia parzi che loro che uscivano da web perché sono entrato a parte usciva lollo era dentro gli asteroidi non so se la stava facendo e poi ma si per chi sono andato verso il rombo io non ho me perché erano praticamente appiccicati di abbra tus e se non mi entrava in wipon io ho fatto la testa degli asteroidi poi sono uscite sono andato quando l'hai fatta scusami perché io inizio visto cioè io quando sono andato di un web hanno visto solamente lol e parti che usciva potrebbe essere anche il secondo me sì secondo me non ha senso perché la sopra la botola il corso io ero in o2 dove e dove porta quella botola scusate quella botola aspetta quale 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 botola sarebbe quella della fuori comunicazione e ti portano in office quella dentro l'emergency ti porta ti porta in due posti diversi sarà molto difficile raga sarà molto molto difficile devo ammazzare sicuramente danni danni sicuramente va ucciso è un rischio provo bevo dove dove chi ha fatto dove lavate chi ha fatto gli e danni è l'attore di destra danni l'ha cliccato subito sì 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 io l'ho cliccato subito chi ha fatto il rattore di sinistra io oltre da sola e basta sì non c'era nessun altro io quando ho fatto office placement e adesso l'ho in alto a destra da dove sei passato in alto a destra ho fatto office in basso a destra che era a porta quella lì e non sono ancora uscito da destra sono ancora di sopra quindi ero ancora nella contaminazione ero vicino alla porta vicino alla porta di razzi comunque volete sapere una cosa a me il primo round quando abbiamo buttato fuori barca secondo me quello era soltanto un alibi perché lo scorso round io ho visto se la seguiva parzi quando mi hanno controllato poi si sono iniziate a inseguire e uno ha ammazzato l'altro secondo me scusa Demi Demi quando ti ho visto ti ho incrociato ho visto in che io stavo facendo le bombolette del gas da dove venivi tu? io venivo io mi sa non mi ricordo che quando ho lasciato Dani al attore di destra sono andato a vedere che c'era il attore di sinistra e mi sembra che da elettricità usciva o il blu o il viola però non mi ricordo chi era il viola? ma io voglio sapere da dove veniva Demi ma aspettate io era Martina io uscivo Demi ma dove venivi scusa? entrava per forza da O2 allora si è entrato da O2 ad elettricità perché io no no da O2 perché io posso allora io posso confermare che le porte erano chiuse o aperte regame puzza Demi perché il corpo era il narcoso dove? Lollo io Demi l'ho visto uscire da elettricità quando ho lasciato Dani al attore di destra secondo me we can take the risk vuoi? secondo me possiamo io quando ho lasciato quando ho lasciato Dani a destra era all'inizio io no 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 tu sei tu ma tu sei cito ora da elettricità da sinistra ho capito ma tu non ti ricordavi neanche il giro ci devi dare l'info giusta va ucciso Dani è che se la mi sa che lo trova ma stavo andando a cercare il cadavere di Diabla tu tu allora Diabla Diabla è morto da un po' questo è sicuro infatti io lo stavo andando a cercare 100% è morto da un po' perché quando all'inizio sono passate i battiti più o meno non proprio all'inizio ma dopo dopo un po' già Diabla era morto e adesso credo sia morto anche il bianco e io l'ultima volta che ho visto il bianco era nella parte di sinistra e c'era Xela che cercava di entrare in Weapon e tu Lolo dove stavi perdonami io ho fatto le luci ok in realtà no aspetta in realtà c'era Xela già dentro credo eri tu Xela no ok Xela era già dentro e penso sia entrato dalla parte di sinistra Xela era già dentro quindi presumo Xela ha sentito da O2 possibile sì infatti ho visto Dani scendere ok Dani scendeva tu hai detto io sono entrata adesso non so se hai visto le porte che si aprivano e siamo scesi entrambi se non sbaglio dalla parte di O2 tu entravi in Weapon perché c'erano le porte chiuse il corpo di calcaterra di Diabla non si riusciva a trovare quindi io sono sicura che sia morto a destra ho controllato un po' il security Xela c'ero da destra sì ma te dove venivi Marti Marti te dove venivi io venivo da Mad Bay io ho fatto l'ultima tasca avevo in Mad Bay e sono venuta a sinistra prendo le porte di sinistra e tu a quanto pare lì già dentro io non mi ricordo molto di poche successioni roundi scorsi ma mi sembra che ne sono incontrato Lollots non ho mai visto Lollots in questo round a parte all'inizio neanche io l'ho mai visto allora io ti dico la verità inizialmente quando prima avevano quando Lollo Parti non mi ricordo no era Lollo che aveva detto che tu ti rifatto l'alibi però dubito che tu sia così stupido la chiccare il tuo stesso impostore amico e farti il game da solo mi sembra stupida come cosa eravamo io a te a sinistra tu sei andata a destra e poi io ti ho visto verso Weapon io sto andata a cercare il cadaver Lollo tu sei l'unico delle luci ma tu sei l'unico che nel game non abbiamo visto e Xela è sicuro ha fatto le luci e io le ho fatte con lui quindi per me Xela secondo me è Lollo secondo me sei te no 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 sì certo troppo comodo sei tu Lollo sì 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 certo certo come no vabbè come no bravo Xela hai trollato che c***a Lollo 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 sei tu Lollo Lollo cagami un attimo Lollo cagami un attimo io ho visto Martino uscire da Coms cagami un attimo datemi lasciatemi un attimo il mio spazzetto per parlare Barca fai veramente c***a un clutch assurdo uno contro otto raga era il game perfetto Dani volevo andare a riportare quelle mezze insieme a ehi sgozzatino e poi chiamo io ragazzi troppo smart troppo bellissimo game il game migliore che ho fatto fino ad oggi il game migliore che ho fatto fino ad oggi bellissimo bellissimo ciao 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 Grazie a tutti.